Quando sono arrivato in città, non avevo tanti amici. Non avevo amici, no. Stavo da solo, ogni giorno, vado in giro, queste cose, you know, but it wasn't it, nella vita voi devi avere amici, gli amici sono importanti nella vita. E poi ho messo questi ragazzi, ho visto questi ragazzi, stavano giocando, e poi abbiamo parlato, mi hanno detto, Hey, vuoi giocare con noi? Ok, ok, penso che ok, sono bravi amici, possiamo uscire tante volte. And then, and then we got to know ourselves, abbiamo scambiati i contatti. Sì, un giorno, abbiamo visti ancora, ma sono dei ragazzi che vogliono fare Facebook ogni giorno, Instagram, Whatsapp. Ok, la vita, per me la vita non è questo. La vita è io e tu. Ciao! Ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.